Buonasera a tutti, con l'estate comincia la stagione degli insetti e quindi è opportuno che ne parliamo e ci consigliamo come fare a prevenire le punture degli insetti. Obiettivamente dobbiamo dire che non esiste una persona che non è mai stata punta da un insetto e soprattutto dalle zanzare, col caldo vengono infestate tutte le zone e nonostante noi abitiamo in una zona più fresca comunque le zanzare ci sono anche in Val Seriana. Come fare a prevenire la puntura degli insetti? Possiamo utilizzare dei rimedi naturali tipo il rododendro tomentoso, è un arbusto della famiglia delle ericace ed è molto utilizzato in diluizione omeopatica sia per prevenire la puntura dell'insetto che per curarla. Ricordate però che la prevenzione va fatta con una settimana o dieci giorni almeno di anticipo prima dell'inizio dell'infestazione degli insetti, quindi se dovete andare al mare e pensate che in quella zona ci siano molte zanzare, almeno una settimana prima potete cominciare a utilizzare il rododendro tomentoso. Come lavora? Va ad alterare l'odore della nostra pelle rendendolo sgradevole ma solo per gli insetti, quindi dovete stare tranquilli perché non puzzerete, i vostri vicini non si lamenteranno, però gli insetti non vi pungeranno. Ricordate anche che quello che mangiamo va a influenzare l'odore della nostra pelle e abbiamo scoperto da degli studi che sono stati fatti che per esempio utilizzare cibi ricchi di vitamina C e vitamina E durante l'estate potenziano l'effetto del rododendro, quindi se io ho fatto una buona prevenzione, la faccio come prevenzione e la faccio anche durante la stagione proprio delle zanzare e mangio prodotti tipo ricchi di vitamina C come la frutta, posso avere un odore quasi particolare che l'insetto non è attirato. Invece è stato documentato da studi scientifici che il consumo di alcol e soprattutto di birra crea un odore sulla nostra pelle che attira le zanzare, quindi con il caldo direi che vi sconsiglio vivamente di bere alcolici e soprattutto bere birra, in questa maniera siete più tranquilli contro le punture delle zanzare. Arrivederci e buona serata.